Non l'avevo ancora fatto di ringraziarvi tutti per aver sostenuto e votato più Europa, avermi consentito di essere qui oggi e da oggi a rappresentarvi e a servire la Repubblica. Ho aspettato oggi per farlo, ho aspettato il giorno della prima seduta, stiamo votando per eleggere il Presidente della Camera e mi sono tornate in mente le settimane di campagna elettorale in cui ho incontrato centinaia di italiani che mi hanno trasmesso a loro nel giro il loro desiderio di costruire qualche cosa insieme e quindi oggi voglio ringraziare i quasi 50.000 elettori che votando più Europa ci hanno permesso di fare l'8% e anche le 3.500 persone che hanno deciso di scrivere il mio cognome sulla scheda elettorale e voglio ringraziare anche tutti quelli che dall'Italia hanno chiamato parenti, amici, conoscenti in Europa e hanno detto loro di votare per noi. Siamo una bellissima scommessa e il viaggio comincia adesso.